La cosa mi è interessata personalmente perché ho dei problemi, sono stata abilitata da un proctologo e non ho risolto assolutamente, mi sono avvicinata un po' titubante e invece ho ricevuto risposte esaustive da chi ha preso in carico la mia persona e conto di proseguire con i suggerimenti che mi sono stati dati. Sono veramente contenta e applaudo all'iniziativa.